Vi do un consiglio, se volete, per passare in serenità questo fine settimana. Andate su Google e cercate il video dell'intervista fatta da Gianvito Rutigliano, su Repubblica Bari, al professor Nicola Frangione. Il professor Frangione è il signore che martedì scorso, affacciato al balcone di casa sua, ha accolto a torso nudo i ministri degli esteri del G20. La foto di quell'uomo mezzo nudo in posa un po' ducesca che sovrasta i potenti in giacca e cravatta è diventata un meme intercontinentale. Se ascoltate l'intervista vedrete che il professor Frangione, che prima di andare in pensione insegnava inglese, è una persona mite, colta, finita alla ribalta dei social perché è stata attratta dal suono di una banda mentre leggeva in casa sua tentando di prendere il fresco. E sui social il professor Frangione ha cose più interessanti da dire di quelle che si leggono mediamente in un intero anno su siti, giornali e nei talk show. Un vero maestro di vita. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo del primo venerdì senza ordinanze del ministro Speranza da ottobre, di un'alleanza sovranista che potrebbe riguardarci e preoccuparci da vicino e della sfida tra miliardari per la conquista dello spazio. Allora questo è stato un venerdì importante perché per la prima volta da ottobre il ministro della salute Roberto Speranza non ha firmato nessuna ordinanza di quelle che negli scorsi mesi ogni settimana cambiavano il colore e quindi le restrizioni che riguardavano le varie regioni italiane. Questa settimana l'Italia è stata e lo sarà quindi anche la prossima tutta in bianco e questo venerdì è stato importante anche perché per la prima volta sempre da ottobre in Lombardia che è stata la regione epicentro della epidemia di coronavirus in Italia si sono registrati zero morti. Quindi due buone notizie, anzi ottime notizie che danno fiducia se non fosse per la spada di Damocle della variante delta che preoccupa e preoccupa sempre di più. Perché è vero che se restiamo in Italia la situazione continua a essere più che buona. L'incidenza, che è il parametro per il quale si contano i contagi ogni 100.000 abitanti, è scesa in una settimana da 11 a 9 casi. E però se guardiamo fuori dai nostri confini e sappiamo che quando si tratta di una pandemia i confini sono un concetto molto relativo, ieri in Gran Bretagna i nuovi casi sono stati 28.000, un numero che non si vedeva da gennaio quando nel Regno Unito si era in pieno lockdown. Fortunatamente sempre in Gran Bretagna a fronte di quest'aumento dei casi non si registra una crescita proporzionale dei ricoveri. Ma comunque dal monitoraggio settimanale sappiamo che la variante delta, che è appunto la mutazione del virus responsabile di questo incremento dei casi nel Regno Unito, perché molto più contagiosa della precedente versione dominante del virus, la cosiddetta variante alfa, quella che prima si chiamava variante inglese. Ecco, dal monitoraggio settimanale sappiamo che la variante delta è arrivata in Italia, è arrivata già in grande stile, siamo già oltre il 22% dei nuovi contagi. E quindi molto presto diventerà la variante prevalente anche in Italia. L'unico rimedio possibile, certo, contro la variante delta è il completamento del ciclo di vaccinazioni. Sappiamo che la maggior parte dei contagiati con la variante delta sono persone che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Sappiamo che la prima dose protegge rispetto ai sintomi più gravi, ma che per essere protetti con buona probabilità dal contagio bisogna aver fatto le due dosi. Su questo c'è un'ulteriore novità perché proprio oggi in Germania il comitato scientifico locale che si occupa di vaccinazioni ha raccomandato, ed è la prima volta che questa raccomandazione viene fatta in maniera così forte da un'autorità nazionale, ha raccomandato a tutti quelli che hanno ricevuto una prima dose AstraZeneca, indipendentemente dalla loro età, di utilizzare per la seconda dose un vaccino a RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna. Qui su Newsbox vi ho parlato spesso di quello che sta succedendo in due paesi a noi vicini, perché sono parte tra l'altro dell'Unione Europea, dove da mesi ormai si assiste a una preoccupante involuzione sul piano dei diritti civili. All'inizio dell'anno in Polonia il governo sovranista di Mateusz Morawiecki aveva imposto una tassa sulla pubblicità per le imprese private che sembrava fatta apposta per colpire le radio, le tv e i giornali liberi, che sulla pubblicità basano gran parte dei loro ricavi e quindi della loro stessa esistenza. E poi sempre in Polonia il governo Morawiecki aveva varato una legge che ha riportato indietro di decenni le lancette dell'orologio per quanto riguarda i diritti delle donne, perché ha vietato l'aborto in tutti i casi, tranne che in caso di stupro, di incesto o se fosse concretamente a rischio la vita della madre. È una legge che per esempio non consente l'interruzione di gravidanza neanche in caso di gravissime malformazioni del feto. L'altro paese di cui vi ho parlato è l'Ungheria, dove a febbraio il premier Viktor Orban ha fatto chiudere Club Radio, che era l'ultima radio di opposizione nel paese, e poi qualche settimana fa sempre il governo Orban ha approvato una legge che era stata presentata come legge contro la pedofilia, che in realtà in qualche modo equipara pedofilia e omosessualità e che per esempio vieta i riferimenti all'omosessualità in qualunque libro, film o prodotto destinato ai minori. Ecco, proprio Orban e Moravieschi, i premier di Ungheria e Polonia, sono tra i principali ispiratori, insieme a Marine Le Pen in Francia e a Matteo Salvini e Giorgia Meloni qui in Italia, di un appello per il futuro dell'Europa, si chiama così, che è stato appena firmato da una quindicina di partiti sovranisti europei, tra cui appunto la Lega e Fratelli d'Italia. Questo manifesto si presenta come una sorta di movimento europeo per interrompere quella che viene definita la deriva federalista e mondialista dell'Europa, cioè la creazione di un'unione che secondo i firmatari di questo documento vorrebbe sopraffare le singole nazioni imponendo decisioni prese a Bruxelles e aprendo per esempio all'immigrazione indiscriminata. Da questo punto di vista questo manifesto potrebbe essere più o meno condivisibile, ma contiene comunque prese di posizione abbastanza scontate quando parliamo di partiti o movimenti sovranisti. Ma a leggerlo bene però si trovano delle frasi che fanno riflettere, perché in questo manifesto si parla della famiglia come dell'unità fondamentale delle nostre nazioni, poi si parla dell'eredità giudaico-cristiana su cui sarebbe fondata l'Europa. E poi c'è una parte che sembra veramente la più rischiosa, che è quella che vuole stabilire la prevalenza delle istituzioni nazionali su quelle comunitarie. E dietro questa presa di posizione sembra abbastanza evidente il tentativo di disinnescare qualunque tipo di intervento, come quelli già molto blandi peraltro, che i paesi dell'Unione Europea e l'Unione nel suo complesso ha portato avanti appunto nei mesi scorsi nel tentativo di censurare o di sanzionare queste derive discriminatorie o a volte veramente autoritarie dei governi nazionali, ad esempio in Polonia e in Ungheria. E allora fa riflettere che tra i firmatari di questo documento ci siano i due partiti che in Italia in questo momento sono in testa in tutti i sondaggi e che se si andasse a votare ora, sempre dando credito ai sondaggi, prenderebbero da soli più del 40% dei consensi, quindi quasi la maggioranza assoluta dei voti e dei parlamentari. Si sta ripetendo in scala minore tra privati la corsa allo spazio che il secolo scorso aveva contrapposto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Qualche settimana fa vi avevo parlato di Jeff Bezos, il fondatore e capo di Amazon, che è anche l'uomo più ricco del mondo, che il prossimo 20 luglio, in occasione dell'anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, salirà a bordo del primo volo privato che porterà comuni cittadini in orbita terrestre. Il volo sarà organizzato dalla Blue Origin, che è la compagnia spaziale di cui è proprietario lo stesso Bezos, e a bordo oltre a lui ci saranno anche suo fratello e un signore che si è giudicato all'asta il biglietto pagandolo 28 milioni di dollari. Ieri Jeff Bezos aveva messo a segno un altro colpaccio mediatico, annunciando il quarto ospite di questo volo, che, ve lo ricordo, durerà 10 minuti e volerà a un'altitudine di oltre 100 chilometri. Questo quarto passeggero sarà Wally Funk, che è un'astronauta che era stata selezionata e allenata negli anni 60 dalla NASA, insieme a altre 12 donne per andare nello spazio, e che però non ci andò mai né lei né le sue 12 compagne di corso, perché a quell'epoca, l'epoca delle missioni Mercury e poi Apollo, che portarono i primi astronauti americani in orbita e poi sulla Luna, gli astronauti americani appunto erano solo maschi, non i cosmonauti sovietici, tra i quali c'erano anche donne, ma gli astronauti della NASA sì. Ecco, finalmente il 20 luglio, dopo 60 anni, grazie a Jeff Bezos, Wally Funk coronerà il suo sogno e tra l'altro, avendo 82 anni, sarà la persona più anziana a essere mai andata nello spazio. E però, a togliere Bezos dai riflettori dopo questo annuncio, ci ha pensato un altro miliardario, Richard Branson, che è il capo di Virgin, e che ha annunciato che anche lui andrà in orbita col suo veicolo privato, che si chiama Virgin Galactic, ma ci andrà 9 giorni prima di Bezos, l'11 luglio. Di questo derby tra miliardari fa parte anche Elon Musk, il fondatore di Tesla, di cui mi occupo spesso per un motivo o per un altro qui su Newsbox. In realtà Musk, con la sua SpaceX, è molto più avanti rispetto a Branson e a Bezos, perché i suoi veicoli già fanno avanti e indietro con la Stazione Spaziale Internazionale, portando non cittadini privati ma astronauti della NASA. Quindi Elon Musk in realtà è l'unico che su questo business dello spazio riesce anche già a fare dei ricavi, perché ha già firmato dei ricchi contratti con la NASA, appunto per portare astronauti e materiali sulla Stazione Spaziale. La scommessa di Bezos e Branson è che questo dei voli in orbita terrestri possa diventare uno sfizio da milionari, che saranno disposti a pagare centinaia di migliaia o milioni di dollari per fare un giro di pochi minuti godendo della visione della curvatura terrestre e dell'assenza di gravità. E quindi evidentemente Bezos e Branson hanno deciso di sponsorizzare questa scommessa mettendo loro stessi come testimonia. Sono le 19.10 di venerdì 2 luglio 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena e è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano e per essere sempre avvisati appena esce un nuovo episodio iscrivetevi al canale telegram.me.newsbox. Se avete domande cercatemi su Instagram. Sono Alessio Baldi. Ciao e buon fine settimana!